e ciao ragazzi benvenuti in un nuovissimo video io sono Werdin si ho cambiato la spin e oggi vi farò vedere il mio la mia casa in survival che ho fatto quando ero piccolino ehm niente ora ve la faccio vedere allora è una casa di un villaggio ok che ho trovato il suo villaggio così a caso e di zonoro va bene poi ho scritto intanto fa fuori è pazza si avete capito perchè è pazza bene entriamo dentro qua abbiamo lo crafting il letto questo è un passo di segreto ce lo vedo un po' dopo questo cosa non so perchè l'ho messo qua poi abbiamo qua posso fare il parkour ve lo faccio malissimo perchè da un po' che non lo faccio ok qua c'è la cesta con i pesci e qua c'è scritto il biscotto poi scendiamo qua e qua c'è mmm facciamo una cosa ve lo faccio vedere alla prima che è la un po' più privato fatevi la testa per salire come per tirare ok dove abbiamo sopra la terrazza che riesco a salire ok qua è un punto così per scendere facendo parkour poi qua c'è tipo la casa sull'albero poi abbiamo qua il tetto che ancora devo completare la terrazza insomma poi abbiamo qua un passaggio segreto di nuovo si che mi piacciono i passaggi segreti perchè allora questo passaggio segreto poi ci posso mettere tu tipo diamanti diamanti li metterò qua o qua vabbè la li metto perfetti bisogno per andarci bisogna fare proprio così per il così per così per dentro la casa oppure sopra il tetto qua muoio se cado mi ammazzo mi butto qua ok perfetto vabbè poi vi faccio vedere la cosa che c'era qua sotto che è il mio magazzino che è molto piccolissimo però ho un botto di roba qua ci sono i materiali e per qua eccoli c'è il ferro c'è l'osmeraldo e ci sono tutte le armature ma li dovrei mettere l'elmo e l'armatura più protetto poi ho sette vetro divato qua ho un casino vabbè e c'è un azzolotto che l'ho preso poi abbiamo con la fornace qui d'acqua un armadio dove ti puoi nascondere tipo o se se vuoi silenzio e poi ho il boss però abbiamo qua fuori c'è un po' di casino ok qua è un po' di casino tipo un parkour fatto un po' male ecco qua abbiamo la mia prima grotta che ho scavato che ci ho messo veramente tanto però che non ho trovato niente quindi mi sto facendo vedere quanto ho scavato è un botto mi sa che avevo trovato la lava se non sbaglio si mi sa che avevo trovato la lava si infatti c'è la lava qua c'è la lava quindi dovrebbero esserci i diamanti poi quello per un altro video bene e andiamoci prima che moriamo ma poi perdo tutto il mio lab ok andiamo sali 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 corri si corre dio quanto è lungo corri ok perfetto poi vi faccio vedere altre cose allora poi vi faccio vedere qua eh ma si c'è come un passaggio per salire qua sopra per entrare dentro il magazzino però entravano i mob che non ho ammazzato e qua è un'altra cosa perché può salire il suo bicchetto mazzo poi abbiamo qua una casa e con cioè che ancora non gli ho preso le mele ma non gli ho preso tutte infatti io sono un ladro a quattro soldi e qua pure gli ho svaliggia tutta la casa e qua è un fatto di questo coso per la casa di un noob e qua niente ho svaliggia tutto e qua lo chiamo il tempio infestato lo so anzi è tipo quasi una sorta di castello infestato che ho lasciato la porta aperta mannaggia non lo so perché ho messo due porte ragazzi non lo so non chiedetemi ehm non lo so se ok poi allora qua abbiamo questi due letti tanto per letto matrimoniale però non ci sono le scale dove si hanno mai più di le porte a questo se no il tempio si arrabbia bene sono qua facendo parkour perché ai miei tempi mi piaceva far parkour con le cose perché ora non lo faccio più e quindi sono negato ok piano ok ok ah mannaggia me vabbè ok facciamo da qua così è meglio sì ma tanto è la stessa cosa ah sto mirando un botto di volte facciamo una cosa allora salgo nell'albero faccio così faccio così un secondo momento tryhard ragazzi ce l'ho fatta e qua non c'è niente però poi si saliva qua era difficile perché ho fatto sto parkour no qua non ci potevo mai fare devo ricordare la parte allora mi devo ricordare come si faceva perché non lo vedo questa cosa l'ho fatta un anno e non ci sono più ritornato quindi non mi ricordo vabbè così era vabbè sto morendo a caldo perfetto mi sono arrivando i mostri poi qua abbiamo un passaggio sotto l'albero corri 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 ok corri dove qua potevamo cioè si può vedere perché c'è tipo sta cosa che ti permette di vedere assurdo tipo guardate qua vedo l'altra terra e la fossero assurdo va bene ragazzi e questa era la mia vanilla in survival bene se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un like e noi vi chiamo in un bellissimo video ciao